Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Sondrio, altrettanti cittadini dichiarati guariti tra ieri e oggi. I dati sono stati diffusi nel pomeriggio dati esse dalla montagna. La stessa agenzia di tutela della salute ha fornito un quadro aggiornato sui test salivari effettuati nelle scuole di Valtinia e Valchiavenna. In totale sono stati eseguiti fino al 31 ottobre 23.095 test. Le positività riscontrate sono al momento 28. C'è anche un aggiornamento sulle quarantene nel mondo della scuola. Nei nidi e nelle scuole dell'infanzia nessun bimbo o insegnante in quarantena al 31 ottobre. Alle elementari tre classi in quarantena con 44 alunni coinvolti e 7 operatori scolastici. Alle medie una classe in quarantena con 20 alunni. Alle superiori il provvedimento è scattato per una classe con 27 studenti.